Buonasera a tutti qui da Padova, è partito di nuovo Ecofuturo e con Ecofuturo parte la striscia di dove da ormai per il quarto anno consecutivo cerchiamo di rendere più conosciute, di far propagare tutta una serie di modalità che sono inerenti alla salute e che sono a disposizione di tutti in maniera molto semplice con grande efficacia e importanza. Stasera avremo Jacopo Fo, avremo Gioacchino all'Asia, avremo una università popolare di 90 Padovana che faranno presentazione e poi racconterò ancora qualcosa io sulle DPN e chiamerei subito a parlare il maestro Jacopo Fo sui chakra in subbuglio che lui si ritrova. Buonasera, non sono un maestro e da anni sto cercando di fare una diversa operazione sul benessere, su questo grande mondo abbastanza misterioso. Io ho iniziato molto giovane, verso i 19 anni, a occuparmi di queste questioni perché da una parte avevo uno stato di salute precario, cioè avevo un'acne mostruosa, cistite cronica, mi cascavano i capelli a ciocche e una serie di altri danni fisici. D'altra parte mi ero follemente innamorato di una ragazza che non ne voleva sapere niente di me e quando lei si mise a fare macrobiotica cercai di sedurla mettendomi anch'io a fare macrobiotica. Tra l'altro non capendo bene come funzionasse ho rischiato di morire per sottoalimentazione e mi sono salvato perché essendo indisciplinato grossomodo ogni mese avevo una crisi, entravo in una pasticceria e non facevo prigionieri e questo mi riequilibrava il rapporto grassi, non avevo capito che bisognava mangiare i cereali con i legumi, quindi mangiavo soltanto riso integrale, lessato e insalata verde, voi sapete che si muore rapidamente. Sono arrivato a un certo punto della mia vita a iniziare a insegnare una serie di cose che avevo imparato e proprio qui vicino ad Abano raggiungi, raggiunsi l'acme della mia critica a una serie di meccanismi intervenendo a un grande simposio internazionale di yoga e altre tecniche dichiarando io insegno lo yoga stupido perché lo yoga intelligente non funziona e ottenne l'odio da parte di tutta la platea ovviamente. Allora sono passati 50 anni da quando la New Age è apparsa in Italia e siamo quindi in grado di fare un bilancio di quello che è successo e tutta una serie di meccanismi sono stati diciamo criticati dall'esperienza concreta, cioè quello che prometteva la New Age all'inizio degli anni 70 è qualcosa che non si è verificato. Noi eravamo convinti che questa nuova visione del mondo, della vita, della spiritualità, della salute potesse risolvere tutti i problemi, peraltro eravamo anche convinti che avremmo fatto la rivoluzione comunista e creato una città perfetta, non siamo riusciti a fare né l'uno né l'altro. Siamo riusciti però a cambiare la cultura, cioè chi dice che abbiamo perso dice una cosa sbagliata perché negli anni 70 il livello di libertà che avevano le persone era bassissimo, pensate che cosa voleva dire la condizione della donna o degli omosessuali o dei disabili negli anni 70 e pensate a come le persone andavano vestite, non si potevano usare i colori, non si poteva avere i capelli lunghi se eri un maschio, le gorne corte se eri una femmina eccetera eccetera, cioè abbiamo cambiato tutto. Oggi il rock and roll è arrivato in Vaticano, alla fine degli anni 60 il rock and roll era la musica del demonio, però d'altra parte possiamo dire che alcune cose hanno dimostrato di essere false e possiamo anche vedere i danni pazzeschi che una certa concezione della new age ha portato. Allora la prima grande falsificazione è l'idea che ci fosse una medicina alternativa in grado di risolvere tutti i problemi. Io mi ricordo gente che proponeva quella forma di massaggio, quella forma di terapia alternativa eccetera eccetera e che diceva questo sistema guarisce il 100% delle malattie. Siccome di morti ne abbiamo seppelliti tantissimi possiamo dire che non è vero. Possiamo dire certamente che tutte queste tecniche fanno bene, abbiamo le prove scientifiche di questo ma sicuramente non esiste nessuno che sia capace di affrontare tutte le malattie. Io sto cercando di organizzare da anni un esperimento, vogliamo fare proprio un reality show, mandarlo in televisione prima o poi ci riusciremo, prendendo 10 donne che per 15 giorni stanno alla libera università di Alcatraz in mezzo alla natura, mangiando cose sane, facendo tutte le cose che fanno bene, quindi arte terapia, gioco terapia, chiacchierate, passeggiate nel bosco, massaggi, movimento fisico eccetera eccetera, fare le analisi all'arrivo, le analisi alla partenza, le analisi dopo tre mesi e sicuramente io sono convinto avremo un grandissimo miglioramento. Non sto parlando di terapie, sto parlando di mettere insieme tutte le cose che sono facilitatrici del benessere. Noi abbiamo prove scientifiche che ci dicono che se un gruppo di malati di tumore ha possibilità di parlare insieme due volte alla settimana, di scambiarsi le emozioni. Pensate alla situazione di una persona che sta facendo chemioterapia, non può certo tornare a casa e raccontare tutte le paure, le angosce eccetera, mentre invece un gruppo di autoaiuto di malati può parlare liberamente perché tutti condividono questo stato drammatico e si è visto che questa semplice comunicazione porta a un aumento del benessere, a una maggiore efficacia delle terapie, a una maggiore sopravvivenza. Così come sappiamo, e questo è provato da ricerche ufficiali di strutture mediche universitarie, che se una persona che sta affrontando la cura di un tumore cambia alimentazione, cioè aumenta la quantità di verdura e frutta e fibre di cui si alimenta, quello che noi otteniamo è che le cure standard funzionano molto meglio. L'altra grossa questione che noi ci troviamo davanti è quella del guru, cioè tutta la new age si è basata sul fatto di individuare una persona che avesse un livello di conoscenza, di coscienza superiore e che diventasse maestro delle altre persone. Io mi affido, su questo sono stati scritti libri interi, mi affido al maestro, il maestro mi conosce perché è un essere superiore, perché è illuminato e grazie alle indicazioni di questo maestro, seguendole, io ottengo un miglioramento della mia vita. Si è visto che questo meccanismo ha un effetto positivo iniziale perché mi induce a seguire una serie di discipline, di pratiche, di esercizi, di alimentazione eccetera eccetera, ovviamente quando sei capitato su un guru che ha un minimo di cervello perché poi sono gli imbecilli che creano soltanto disastri, ma che cosa succede? Succede che questa persona si de-responsabilizza. Questo è un meccanismo cardine del problema, cioè il cambiamento, quello che abbiamo verificato in questi decenni, è che il cambiamento ha bisogno che la persona diventi soggetto della propria vita. La delega è una malattia, nel momento in cui io mi affido a una persona che mi dice cosa fare, al di là se è una persona che è brava a dirmi delle cose sensate e non è un irresponsabile, ma mi porta fino a un certo punto, da quel punto in poi io non vado più avanti. Chiaramente questo è un meccanismo molto forte dal punto di vista dei proseliti, cioè della quantità di persone che ti segue. Io sinceramente ho passato con Gabriella Canova un mese intero quando abbiamo iniziato a organizzare corsi, ci siamo chiesti se non fosse il caso comunque di seguire questa strada, cioè che è la strada del maestro, sotto il maestro ci sono quelli del secondo livello, poi c'è il terzo livello, il quarto livello e tu crei un meccanismo per cui le persone salgono di livello in livello, c'hai le aperture progressive dei chakra, oppure accedi a una serie di strumenti magici di aumento della conoscenza, segreti, formule religiose che devi pronunciare tutti i giorni, immagini evocative che ti servono per stare meglio, eccetera, eccetera. E chiaramente creando un meccanismo di progresso sociale la gente si affeziona, no? Perché sei al primo livello, poi puoi andare al secondo, poi puoi andare al terzo, al quarto, al quinto, hai una carriera davanti nel mondo di questa o quella disciplina, ma il fatto che tu non fai delle scelte tue, ma segui quello che ti dice il maestro, è un meccanismo disastroso. L'altra grossa questione è quella della struttura, cioè appunto io mi trovo dentro una struttura che è protettiva, ma anche questa struttura, appunto l'organizzazione religiosa, l'organizzazione New Age, l'organizzazione di quella particolare disciplina, è poi un percorso che mi toglie il fatto di sperimentare io, di capire io, non sono più soggetto e questo è un disastro. Noi discutemmo con Gabriella a lungo di questa questione e appunto l'alternativa era trovare un sistema per cui rapidamente avremmo fatto molto proseliti, perché chiaramente queste sono metodologie che ti portano a diventare dipendente, diventare, essere gratificato da questa tua carriera. Decidemmo di no. Decidemmo di no. Attenzione, nelle discipline orientali c'è proprio la scelta di fare questo. Ed è una scelta che non è di per sé sbagliata. Secondo me nei secoli passati era una scelta giusta, perché davanti a persone che avevano una coscienza più alta della realtà c'era degli esseri umani che avevano un livello di cultura bassissima. Per cui era l'unica maniera fargli fare un percorso vincolato. La nostra idea è stata che oggi c'è un tale livello di cultura, di coscienza delle persone, c'è stata una crescita dell'essere umano, per cui fosse importante e possibile proporre un percorso non strutturato, un percorso libero, un percorso in cui ognuno potesse manifestare la propria individualità. Il costo di questa operazione era rinunciare a creare un'organizzazione strutturata con degli attivisti, per cui con un grande numero di persone. Io sono 38 anni che insegno tecniche del benessere e non sono riuscito a ottenere dei grandi risultati numerici. Credo però di aver fatto circolare delle idee nuove, delle idee diverse. L'altra grossa questione è quella dei miracoli. La New Age si è fatta a forza proponendo l'idea che i limiti umani fossero falsi e che in realtà ogni essere umano potesse fare delle cose superiori. Mi ricordo i primi due cuochi di Alcatraz, ogni sera prima di cena dovevano andare via a abbandonare la cucina perché seguivano un percorso, tra l'altro un percorso economicamente molto costoso, che portava alla lievitazione, cioè a sollevarsi dal suolo. Il fatto che poi nessuno sia riuscito a volare dopo una decina di anni ha stroncato questo movimento, però per una decina di anni mi sembra che si chiamasse meditazione trascendentale, era uno yoji indiano che stava in Svizzera e alla fine questi, oggi come oggi, credo che non esistino quasi più perché siccome sono passati 38 anni da quando questi vendevano questa formula per volare, tra l'altro a decine di migliaia di euro di oggi, ovviamente lì c'è poi un meccanismo, il primo livello costa 1000 euro, il secondo 5000, il terzo 20.000, il quarto era, allora erano una cosa come 40 milioni di lire, per cui insomma, belle cifre aggiornate a oggi. Per capire questo discorso di questa credulità che si è diffusa incredibilmente tra persone colte, vorrei farvi un esempio. Sicuramente voi avrete sentito parlare dell'esperimento delle scimmie. Questo qui è un esperimento fatto negli anni 70, un gruppo di ricercatori riesce a insegnare a delle scimmie su un'isola vicino al Giappone a lavare le patate dolci che i ricercatori davano a queste scimmie, per cui praticamente fanno vedere alla scimmia la patata è più buona se la sciacqui nell'acqua di mare, per cui togli la sabbia, ti mangi solo la patata dolce e inoltre il dolce è aumentato dal salato dell'acqua di mare. Quando 100 scimmie arrivano a imparare questo comportamento, tutte le scimmie del mondo di quella razza iniziano a lavare le patate dolci. Se voi andate su internet e cercate esperimento delle 100 scimmie, trovate migliaia di citazioni di questo esperimento in tutte le lingue del mondo. Allora, questo esperimento è falso. L'esperimento reale che è stato fatto in quest'isola qual è? è che se io riesco a insegnare questo comportamento alle giovani scimmie, tutte le scimmie adulte, quando si raggiunge un numero, una massa critica che non è 100, ma è una buona percentuale di quante scimmie giovani ci sono, tutte le scimmie imparano a lavare le patate nell'acqua di mare. Cioè, è una cosa completamente diversa. Non c'entra la telepatia. Ma come nasce questo fatto che da un esperimento reale molto semplice si arriva a dire che tutte le scimmie del mondo imparano a lavare le patate dolci? A causa di un film, Il pianeta delle scimmie. Nel film Il pianeta delle scimmie raccontano una balla. Cioè, per spiegare il fatto che le scimmie sono diventate potenti e hanno soppiantato gli uomini, c'è uno che dice, eh sì, ci fu questa cosa qua che si scoprì la telepatia delle scimmie, perché tutte le scimmie sono telepatiche e questo esperimento è che se 100 scimmie... Allora, la cosa divertente è che se voi oggi guardate su internet è pieno di siti che raccontano la bufala. Ma la bufala non viene fermata. Perché? Perché tu hai della gente che dice, ah oggi, la settimana scorsa hanno fatto questo esperimento. No, non l'hanno fatto la settimana scorsa, l'hanno fatto negli anni 70. Ma continua a girare questa cosa qua. La gente desidera i miracoli. Noi ad Alcatraz ci siamo divertiti per parecchi anni a prendere tutti i miracoli che venivano praticati da una serie di maestri e smontarli. Dimostrando che sono tecniche di manipolazione, di suggestione, di distrazione delle percezioni. Un esperimento che è stato il più difficile da smontare fu quello di un maestro che venne a Alcatraz e sosteneva di saper togliere con un particolare rito la nicotina dalle sigarette. Lui viveva togliendo la nicotina dalle stecche di sigarette. Tu gli davi 20 euro e lui ti trattava 5-10 stecche di sigarette. Però questo ci fa vedere una cosa che restiamo veramente sconvolti. Cioè, eravamo una ventina di persone, ci chiede di accendere ognuno la propria sigaretta dal proprio pacchetto, di fumarla, di ascoltare bene le sensazioni che ci dava, perché poi avrebbe tolto la nicotina. Ci chiede di spegnere la sigaretta, di mettere davanti a ognuno di noi una sigaretta dal nostro pacchetto, passa e impone le mani alle sigarette. Passa sigaretta per sigaretta con questo mantra, dopodiché dice ok, accendete, adesso non c'è più nicotina. Accendiamo le sigarette, non sanno più di niente. È incredibile, no? È una cosa miracolosa. E io non riuscivo a capire dove fosse il trucco. Io ho avuto il fratello di mia madre, mio zio, che era uno che faceva i giochi di prestigio, per cui mi stupiva sempre da piccolo con miracoli incredibili, quindi dice che deve essere il trucco. E sono riuscito a scoprire il trucco rifacendo, con delle persone che non ne sapevano niente, il gioco. Il gioco funziona per forza. Perché? Perché quando tu accendi la prima sigaretta, tutta la tua attenzione è a misurare la sensazione acre del fumo in gola. Quindi lo senti al 100%. Quando lui fa il secondo rito, tu quando accendi la seconda sigaretta stai pensando, ma funzionerà veramente? Ma perché ha fatto uo 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 uo? Perché lo vuole fare? Mi vuole fregare? Oppure io adesso imparerò anch'io e potrò sedurre le ragazze e portarmene a letto togliendo la nicotina delle sigarette, eccetera, eccetera. Quindi non stai ascoltando il sapore delle sigarette. È un'operazione di diminuzione della percezione tramite la distrazione. Sappiamo che è possibile addirittura anestetizzare dei bambini che sentono un grande dolore distraendoli. Chi ha fatto comicoterapia negli ospedali c'è un gioco potentissimo, è quello di entrare in una stanza di un bambino che sta piangendo per il dolore, iniziare a fare le bolle di sapone, poi hai nascosto in mano una bolla di plastica, perfetta, trasparentissima, e fingi di prendere al volo una bolla e il bambino resta lì quando vede che tu la tocchi, gliela dai in mano, il bambino guarda la bolla e non sente più il dolore. La stessa cosa la possiamo applicare creando un falso miracolo con la nicotina. Allora, a partire da questo ragionamento, io ho iniziato un lavoro di ricerca andando, oltre che a indagare sui falsi miracoli, indagare anche su alcuni meccanismi che venivano presentati come miracoli del chi, dell'energia vitale a seconda delle pronunce chi o ci, che avevano però una base materiale, cioè situazioni in cui non c'era una manipolazione o un trucco, ma c'era evidentemente qualche cosa di non conosciuto. E ho iniziato con tutta una serie di esercizi di arti marziali in cui le persone manifestavano una forza straordinaria e piano piano sono riuscito, grazie al fatto che alla Libera Università di Alcatraz continuavano ad arrivare persone che si occupavano di settori più differenti, per cui dai fisiatri a docenti di neurologia, di psicologi, tecniche di percezione, maestri di arte marziale, alla fine siamo riusciti a smontare questi esercizi, non solo a dimostrare che chiunque è capace di farli, senza bisogno di mobilitare l'energia vitale, semplicemente perché siamo andati a scoprire che esistevano tutta una serie di reazioni muscolari e nei riflessi istintivi che non erano conosciute. Uno di questi esercizi, tanto per capire di che cosa parliamo, io lo vedo nel 1982 in televisione, due professori universitari spiegano che i tempi di reazione del cervello sono tali per cui non è possibile prendere una banconota al volo, il gioco è che si prende una banconota, una persona te la mette così e tu devi riuscire a chiudere le dita quando la persona fa cadere la banconota. Dicono semplicemente che non è possibile, il tempo di caduta di una banconota è inferiore al tempo di reazione del cervello. Fanno fare questo esperimento a cento persone del pubblico, nessuno ci riesce. Io in quel periodo prendevo un sacco di botte dal mio maestro di Kendo e ero stupito dalla velocità in cui riusciva a spostarsi quando io cercavo di colpirlo e la tecnica utilizzata per ottenere questa grande velocità era la visualizzazione, cioè tu nel momento in cui ti muovevi immaginavi, ti visualizzavi di essere già in un altro punto e questo dava al corpo una velocità straordinaria. Quindi semplicemente provo a applicare questo meccanismo alla capacità di prendere la banconota al volo. Che cosa vuol dire? Faccio finta di averla già presa per una frazione di secondo senza concentrarmi, io visualizzo la sensazione della banconota che ha preso, le dita che hanno preso la banconota, la sensazione della carta sui polpastrelli e anche c'è un fattore emotivo, cioè devo anche visualizzare, fare finta di sentire per una frazione di secondo, la soddisfazione emotiva, cioè non è soltanto la sensazione della banconota ma anche l'ho già presa. Questa cazzata, poi mi metto lì, non faccio solamente niente e vedo che le dita si chiudono istantaneamente. La cosa divertente è che quando tu usi riflessi normali, cioè stai lì a guardare razionalmente quando la banconota casca e poi dici alle tue dita chiuditi, tu le chiudi subito dopo che la banconota è caduta. Nel momento in cui invece usi questa visualizzazione e poi lasci che la parte scimmia faccia questo, le dita si chiudono nel primo quinto della caduta della banconota, cioè tu sei cinque volte più veloce. Allora questo meccanismo ci apre a osservare una cosa che in realtà tutti conosciamo ma non è identificata ed è incredibile che grazie a questi meccanismi poi dei guru, dei santoni riescano a fare illudere le persone che quella capacità non è loro ma è data dal fatto che il maestro ti ha dato la parola magica, il simbolo, bababababababab. Tutti voi vi è capitato di arrivare a casa la sera in macchina e a un certo punto dite ma come ho fatto ad arrivare a casa? Non mi sono accorto la strada che ho fatto. Cosa diciamo? Ho messo il pilota automatico. Quante volte vi è capitato di frenare perché succede qualche cosa ma voi schiacciate il pedale del freno prima di capire cosa è successo? Questi sono meccanismi naturali. Noi abbiamo un sistema di una parte del cervello, un software nel cervello che è quello della scimmia, quello primitivo e questo cervello primitivo è capace di fare tutta una serie di operazioni complesse e noi lo utilizziamo costantemente, noi impariamo delle procedure che poi attuiamo senza pensare come ad esempio tornare a casa. Allora la visualizzazione serve per attivare questo tipo di processo mentale. A partire da questa scoperta abbiamo iniziato a smontare tutta una serie di meccanismi, ad esempio il meccanismo della forza, l'esercizio della spinta che voi vedete su internet, ad esempio se guardate spinta Aikido, trovate dei video di signori molto spesso anche anziani o molto anziani che resistono all'impeto di giovanotti a volte più di uno. Io ho visto un video con dieci energumene i ventenni che spingevano un signore di 75 anni e non riuscivano a spostarlo di un millimetro, addirittura cadevano per terra. E appunto questo viene spiegato con l'energia del chi, il grande maestro vecchio ha l'uso del chi, mentre gli altri non ce l'hanno quindi non ce la fanno. Ecco, siamo andati a smontare anche questo e a scoprire che esiste una muscolatura scimmia fisiologicamente diversa dalla muscolatura razionale e che è possibile mobilitarla e ottenere non un miracolo ma semplicemente l'uso del 100% della forza. Attenzione, nella cultura popolare italiana questo c'è, si dice che per tenere fermo un pazzo servono sette sani. Perché? Perché il pazzo utilizza il 100% della muscolatura. Io mi sono sempre stupito lavorando, ho finito il tempo? Arrivo subito. Mi sono sempre stupito lavorando con i cavalli del fatto che un puledro di quattro giorni, se tu devi dargli una medicina, devi tirarlo per terra, ti trovi davanti a una forza disumana. Dici ma questo non mica ha fatto palestra, mica ha fatto Aikido, come è possibile? Perché il cavallo usa il 100% della sua forza e nonostante che sia la metà di me fisicamente, pesa 40 kg, io ne peso 80, non ce la faccio a tenerlo fermo. Perché il cavallo usa tutta la forza naturale. Ovviamente se io imparo a fare la stessa cosa, sembra che faccio un miracolo. Questo discorso ha portato poi a un lavoro di cui parlerò domani, perché ora il tempo è finito, sulle percezioni. Cioè abbiamo scoperto che utilizzando l'osservazione, semplicemente non c'è nessun trucco, nessun danno, è un inganno, è una cosa che chiunque può fare. Possiamo sviluppare, così come sviluppiamo un modo diverso di usare i riflessi e un modo diverso di usare la muscolatura, sviluppare un modo diverso di percepire il nostro corpo e percepire le sensazioni. Anche questa è una banalità. È chiaro che se voi sentite una musica nuova all'inizio e non vi piace, ci dovete fare l'orecchio e poi capite la musica, iniziate a goderne. E l'altra questione su cui abbiamo lavorato, di cui parlerò nei prossimi giorni, è il fatto che la mente mente. Un libro per me è stato fondamentale, è Il Miracolo del Silenzio di Vimala Takar, che è un'allieva di Krishnamurti, che è l'unico grande maestro su cui nessuno è riuscito a creare una religione, perché ha una teoria talmente devastante dal punto di vista delle illusioni, della vendita di pacottaglia mistica, la quale ha lavorato sul fatto che nel momento in cui io inizio a usare in maniera diversa il meccanismo delle percezioni, ho una fase in cui è molto probabile che mi si creino delle allucinazioni. E queste allucinazioni, se io poi ho dietro un guru che mi dice, vedi questo, vedi quell'altro, vedi la luce, la gente poi ci crede. Mentre invece lei dice soltanto una situazione particolare del cervello, una fase particolare del cervello in cui è particolarmente facile avere le allucinazioni. Le allucinazioni ce le abbiamo tutti, non ce ne rendiamo conto e soprattutto non ci rendiamo conto che le allucinazioni sono molto credibili. se andate in libreria trovate decine di libri sui falsi ricordi. Noi addirittura costruiamo dei ricordi del nostro passato di cose che non sono mai successe. E questo è un altro dei meccanismi che viene poi utilizzato dalla New Age cattiva e che è molto interessante capire perché ci permette di vedere la nostra esperienza di vita in maniera diversa. Grazie. Grazie Jacopo. Quanti spunti ci ha dato Jacopo perché lui, Gioacchino, io abbiamo più o meno iniziato tutti nello stesso periodo una ricerca, era proprio una forza in quel periodo e di conseguenza ci sono tanti contatti, tante connessioni. Abbiamo fatto tutti in un modo nell'alto arte marziale, abbiamo fatto ricerche sugli aspetti psicologici, magari sulla Gestalt, abbiamo letto Grodd, che che ne so, abbiamo fatto tutta una serie di esperienze che adesso tutti quanti ci stanno riportando alla realtà. Parlando del cervello, lui ha menzionato un libro e vi dico che ce n'è un altro molto più semplice che si intitola il cervello ci inganna. Perché il cervello non è quella macchina perfetta, una macchina fotografica che riprende e riproduce esattamente quello, per esempio, su cui pone l'obiettivo il fotografo, ma il cervello tramite sensi prende, smonta tutto quello che percepisce da veri recettori e lo ricostruisce. E lo ricostruisce aggiungendo le allucinazioni o togliendo. Un esempio classico è quello del telefonino. Quando voi telefonate e sentite l'interlocutore dall'altra parte, sentite la voce completa della persona, ma il trasduttore del telefonino non è in grado di produrre le note gravi. Siete voi che, conoscendo la persona o con uno sconosciuto calcolando il vostro cervello, ci applica le note basse per cui alla vostra psiche, alla vostra coscienza quotidiana e ordinaria, arriva una voce completa. Ma siete voi che state inventando quella voce. E quindi c'è molto da studiare. Adesso le neuroscienze ci stanno aiutando. Le neuroscienze sono veramente una forza culturale in questo momento che sta rivoluzionando il mondo. Poi dirò qualcosa anch'io magari sulla New Age, sui maestri, visto che siamo stati proprio coinvolti fin dall'inizio. E adesso chiedo al maestro. Maestro si intende persona che ha una grossa esperienza. Non perché sia uno dei maestri in cui si intendeva come raccontava adesso Jacopo. Maestro significa una persona che attraverso la vita ha sperimentato, ha raccolto, ha discriminato, ha imparato dei propri errori, ha avuto i suoi dolori e le sofferenze. Ed è proprio dei dolori che inizieremo a parlare, anche grazie al tuo nuovo libro, che è una cosa veramente bella. E Kintsugi, Gioacchino, se si è meglio. Si eleva. Non era lievitazione, ma era lievitazione. Bene, allora, ma intanto devo dire, grazie Alfredo per questa presentazione, maestro non lo so, non credo, cioè il maestro in concezione, visto che per tanti anni mi sono occupato di sciazzo e discipline proveniente dal Giappone, il sensei, termine giapponese, significa letteralmente colui che ha cominciato prima. Per cui qui siamo diversi sensei. Cioè, ora, ascoltando quello che ha detto Jacopo, ci sono venuti degli spunti interessanti. Intanto abbiamo bisogno di nuovi maestri, ma i maestri, ognuno può essere maestro. Possiamo imparare da chiunque, perché chiunque ha qualcosa da insegnarci. Io credo, parlando di New Age, faccio una premessa, non mi ritengo tanto, non mi riconosco molto nella cultura cosiddetta New Age, non lo so nemmeno se faccio parte o meno. Però, ha detto una cosa interessante Alfredo, siamo tutti pionieri qui. Abbiamo cominciato, e visto che l'accenno è stato la macrobiotica che mi ha fatto sorridere quando Jacopo ha esordito, perché ho cominciato anch'io con la macrobiotica. Anch'io ho rischiato di morire, se vogliamo, perché mangiavo riso integrale, azucchi e alghe, i zichi. Però, devo dire che mi ha salvato la vita. Perché io lavoravo alla Fiat Mirafiori, a 18 anni, ero sindacalista, volevo cambiare il mondo, all'epoca avevamo tutte queste idee. Ma grazie a questo riso integrale, questi azucchi, queste alghe. La mia vita è cambiata, anche se non lo consiglio a nessuno, perché appunto ho persi 20 chili, 25 chili, e quindi insomma ho rischiato grosso. Però, siamo, abbiamo cominciato da lì, abbiamo cominciato con le nuove avanguardie, e credo che questo sia molto importante. Io credo che sia importante il messaggio che lanciamo, la qualità di quello che facciamo. Al di là, se abbiamo consenso o meno. Non credo che sia importante cercare il consenso. Io credo che sia importante fare le cose con coscienza, lasciare una traccia a quelli che verranno dopo. Personalmente non so come definirmi, perché quando si parla di operatori, io mi occupo fondamentalmente da diversi anni di biodinamica craniosacrale. Prima è stata la macrobiotica, poi lo sciazzo per tanti anni. Trovo che tutte queste discipline abbiano un filo comune. Lanciano un messaggio. Il discorso della guarigione è un discorso molto complesso. Noi non siamo, diciamo, qui per cercare di guarire qualcuno. Infatti è bene che si parli anche di smontare, ecco, la figura del guru, di quello che vuole fare cose particolari, miracoli. Prima, nel presentare il mio libro, di cui poi vi dirò qualcosa, abbiamo citato Don Luigi Verdi, che ha scritto la prefazione, che è il fondatore della Fraternità di Romena. Mi piace molto quando lui dice, non cercate di chiedere i miracoli a Dio, perché Dio fa un po' il che gli pare. Non sta dietro ai nostri miracolini. Ecco, secondo me c'è molta verità in tutto ciò. Cioè bisogna essere realisti, bisogna vedere le cose. E anche non aver paura di pensare che le cose che facciamo, che mettiamo a disposizione, non debbano avere un seguito. Perché lo hanno avuto. La macrobiotica ha avuto un suo senso, secondo me importante, al di là di come è stata propagandata all'inizio, ma di settore trainante per il biologico. Perché quando ho cominciato io, 40 anni fa, non esisteva il biologico. Cioè esistevano i contadini che coltivavano, ma è stata un'avanguardia. Poi è andata via via scomparendo. Io mi ricordo che negli anni 80 in Italia c'erano un sacco di centri macrobiotici. Ma è andata via via scomparendo perché aveva finito magari il suo ruolo di trainare, anche se poi esistono ancora centri, esistono ancora tanti. Poi è arrivato, si è diffuso lo sciazzo. Per me lo sciazzo è stato fondamentale perché mi ha aiutato intanto a vivere. Perché quando sono tornato dall'America, dove ero andato a studiare macrobiotica, vivevo a Firenze, eravamo in tre a fare sciazzo all'epoca. ma ha aperto una strada a tante persone. Qui so che ci sono degli operatori che hanno anche delle attività, poi parleranno. Ed è molto interessante. In Italia ci sono, penso che sia il paese dove ci siano più scuole, più centri di formazione. E quindi anche questo ha avuto un suo senso. Poi ho incontrato sulla mia strada il cranio sacrale, la biodinamica che poi è un'ulteriore evoluzione, che mi ha insegnato la qualità di quello che facciamo, la presenza, lo stare in ascolto e a diventare testimoni silenziosi. Una cosa che può sembrare spiazzante, però secondo me è molto importante nell'ampito proprio anche del rapporto che abbiamo con persone che hanno bisogno di noi, che ci vengono a chiedere il loro, diciamo, il nostro contributo perché hanno magari un problema di salute. Io nella mia vita, io ho cominciato appunto 40 anni fa, ho trattato migliaia di persone e sono sempre più convinto di quello che diceva anche Jacopo prima, che la mente mente. Su questo non ci sono dubbi, ma il corpo non mente mai, perché il corpo ci dà sempre delle risposte chiare e se qualcosa ci succede c'è sempre un motivo, non è che ci succede a caso. La psiche e il corpo sono un tutt'uno, ma come diceva un maestro, ma lui sì, un maestro indiano che ho conosciuto anni fa, ricordiamoci che noi siamo 90% mente e 10% corpo, però quel 10% è importante. Io mi sono permesso di scrivere questo libro che si chiama Kintsugi, Kintsugi è un termine giapponese che vuol dire riparare con l'oro. È un'antica arte nata nel 1200 in Giappone che ripara le ceramiche rotte rimettendo insieme i cocci con una colatura del metallo più prezioso che è l'oro. Ed è il simbolo della resilienza, cioè quei cocci che si avvicinano, si rimettono insieme, che sono poi le nostre ferite, che sono le nostre crepe, fanno trapelare una nuova luce, come dice Leonard Cohen. Tutte le cose hanno delle crepe, ma è da lì che passa la nuova luce. E allora mi sono permesso, sempre molto umilmente, visto che per tanti anni ho lavorato sul corpo e ho visto tante persone con tante ferite, incluso poi ovviamente anche le mie, perché se non avesse avuto le ferite non avrei trasformato poi quello che ho fatto nella mia professione, a trovare delle nuove vie. E quindi mi sono permesso di trattare un po' il tema del trauma, perché tutti subiamo traumi, sia nel mondo prenatale che alla nascita che ha dopo, considerando delle discipline anche riconosciute come il somatic experiencing, che è stato elaborato dal dottor Peter Levine in America, osservando la reazione che i mammiferi hanno in situazioni di predazione, come reagiscono al trauma, ed è un insegnamento straordinario. Perché citando le varie discipline, lo yoga per esempio, che è un po' diciamo la regina, perché lo yoga è venuto prima di tutto il resto. Lo yoga è nato osservando gli animali, come si svegliano, come si muovono. E il somatic experiencing, secondo me, è un'apertura straordinaria di lavoro che parte dall'osservazione degli animali. Adesso poi ho citato la teoria polivagale del professor Porges, perché secondo me è una scoperta straordinaria che ci fa capire la reazione del sistema nervoso autonomo in situazione di stress. E questa scoperta è stata ritrovata attraverso l'osservazione dei bambini prematuri, quindi sempre da situazioni di esperienza diretta. E da lì mi sono connesso poi alle cinque ferite emozionali, cioè l'abbandono, il rifiuto, il tradimento, il senso di ingiustizia e l'umiliazione. E per ognuna di queste ferite ho trovato, cioè mi sono dedicato a studiare la biografia di grandi personaggi che attraverso quelle ferite hanno ritrovato la loro strada. Credo molto nell'archetipo, credo molto nella figura anche mitologica. Rendiamoci conto che oggi noi siamo costretti della nostra vita assurda da falsi miti, come diceva il nostro grande amico Guccini, di progresso, ma perché sono miti che ci portano a fare poi delle scelte assurde. Allora abbiamo il dovere, secondo me, di riappropriarci di miti positivi, di miti che ci facciano stare bene. E allora, siccome Jung ci ha parlato dell'inconscio collettivo, sempre con molta umiltà mi sono permesso di citare appunto dei personaggi importanti. Si va da John Lennon a Marilyn Monroe, a Walt Disney, a Fred Astaire per arrivare a Artemisia Gentileschi, a Frida Kahlo, a Louise Hay, a Norman Cousin, ci sono un sacco di esempi straordinari di persone che hanno subito ferite ma hanno aperto delle strade straordinarie. Pensate, mi viene da pensare, visto che si parlava dello show business, i Beatles, nella prima audizione che hanno fatto, furono cacciati perché la persona che li aveva ascoltati disse, non hanno talento e non hanno alcun futuro nello show business. i Beatles. Fred Astaire, alla prima audizione, gli dissero, guarda, non sai ballare, sei pelato e reciti male. Fred Astaire. Walt Disney lavorò in un'agenzia pubblicitaria e venne licenziato per scarsa creatività. Sapete com'è nato Topolino? Non so perché non vengono dette queste cose anche nelle biografie. Lui, dopo questa esperienza, non aveva stimoli, non aveva idee, ma tutti i giorni un Topolino andava a trovarlo sotto la scrivania del suo ufficio e allora cominciò a chiedersi magari questo Topolino mi vuole dire qualcosa. Ne parlò con la moglie, perché c'è sempre una donna, perché qui poi siamo tutti uomini. Ah no, poi ci sono anche delle donne che parleranno, e quindi molto bene. No, perché è importante anche questo. E gli disse perché non crei un personaggio? Crea un Topolino ma crea anche Minni e lui creò questo personaggio e nessuno, nessun produttore lo ha sostenuto, ha investito tutto quello che aveva nella prima proiezione di Topolino che è avvenuta nel 1928. Ricordo questa data perché in quell'anno è nato mio padre e da lì è nato Topolino. Cioè, dalle situazioni di disagio nascono grandi risorse, grandi possibilità. Come dicevo prima, perché ho presentato il libro prima qui all'Eco Futuro Festival, non è detto che se uno trova la propria strada poi diventi realmente felice, perché la felicità è un percorso molto articolato, complesso. Però io penso che sia importante ciò che si lascia a chi verrà dopo, non tanto quanti anni viviamo. Certamente se viviamo di più saremmo magari più fortunati, potremmo essere anche più allegri e più gioiosi, non lo sappiamo. Però secondo me il nostro dovere è di lasciare qualcosa anche piccolo, ma di qualità a chi viene dopo. E quindi io mi sono permesso, ripeto, non sono uno scrittore professionista, io ho scritto diversi libri perché mi piace scrivere, però mi occupo di lavoro sul corpo, ho visto tante persone e ne vedo ancora tante che vengono ai miei corsi e ho capito che la disciplina anche che porto avanti, ora la biodinamica, è un qualcosa che va al di là dello studio meraviglioso del corpo, nella sua anatomia, nella sua fisiologia. Ma c'è un qualcosa di profondo che ci lega. E ho scoperto anche, e ne ho parlato anche in un libro che ho scritto anni fa, Cascina 900, che il mio amico Michele, ad Alcatraz, se ne è parlato in un'intervista, io sono cresciuto in campagna, con ritmi molto lenti, con silenzi molto dilatati, e ho ritrovato queste cose nella disciplina che faccio ora. Magari ci ho messo tanti anni a capire quello che dovevo fare, però finalmente l'ho trovato e ho ritrovato lì le radici di un mondo che mi ha forgiato e che mi ha trasmesso dei valori in cui credo fermamente. Io credo nei valori del silenzio, come ha detto bene Simone Cristicchi, che non a caso è un frequentatore assiduo di Romena, che è la natura e il silenzio vanno a braccetto, e c'è un linguaggio della natura che è proprio il silenzio, e imparare ad ascoltare, che è una cosa molto difficile, perché noi siamo proiettati sempre a fare, ma dobbiamo imparare per prima cosa, della cosa che cerco di insegnare, e non è assolutamente semplice ai miei allievi, a non fare. La prima cosa è che devi imparare a stare fermo, la prima cosa è che ti devi destrutturare da tutto quello che ti hanno detto e che ti hanno inculcato. Poi puoi ricominciare magari a vedere le cose sotto un'altra luce, e ti si apriranno anche delle possibilità, ed è quello che ho cercato di fare, sempre ripeto, con molta umiltà, in questo libro che si chiama appunto Kintsugi, il dolore che aiuta. Il dolore ci può aiutare, certamente con tanto rispetto per chi ha subito dolore, perché non tutti quelli che hanno subito un dolore lacerante ce l'hanno fatta magari a trasformarlo in forza, quindi vanno rispettati. Però una speranza la dobbiamo sempre dare, e non è una cosa moralistica così buttata lì, ma è un qualcosa che nasce proprio dalla natura, perché laddove, dal dove ci rompiamo possiamo diventare più forti. Questa è un'altra frase che mi pare abbia detto sempre Leonard Cohen. E quindi, questo volevo dire, ma sono convinto, tornando ai temi che sono stati illustrati prima, che ci coinvolgono anche con gli amici che sono qui, che ripeto, per l'ennesima volta, è la qualità di quello che facciamo, non la quantità a fare la differenza. Si può essere, come diceva Mario Vatrini, che è stato il primo grande pioniere dello sciazzo in Italia, una scuola di sciazzo, c'è una bella differenza tra una scuola grande e una grande scuola. Possiamo imparare anche dalle pubblicità. Bene, io vi ringrazio della pazienza che avete avuto, ringrazio di avermi invitato, ringrazio il mio amico Sauro, che ha fatto una delle migliori introduzioni del mio libro. Grazie Alfredo. Gioacchino, grazie a te perché è sempre emozionante ascoltarvi, ascoltare Jacopo, te, così in una sequenza, così è troppo da resistere. La resilienza viene messa a dura prova. No, non importa, stai qui accanto a me. Va bene. Adesso andiamo a presentare alcune cose, poi su quello che ha detto anche Jacopo e Gioacchino, se rimangono dieci minuti le dirò anch'io, perché siamo, alla fine mi rendo conto, siamo stati tre compagni di viaggio che hanno fatto una strada insieme, capito, e finalmente si stanno convergendo in un'area, diciamo nel quotidiano, simile. Adesso chiamiamo 90 Padovana, l'Università Popolare, si, e facciamo venire la signora Milè, che parlerà della riflessologia facciale. Buongiorno, buonasera, sono un po' emozionata. È la prima volta che partecipo a una conferenza dove ci sono delle persone così importanti. Allora, posso, io sono qua, sono Milè e sono qua per presentarvi la multiriflessologia facciale vietnamita. Mi ha invitato Fabio e ero molto contenta perché all'interno di Ecofuturo credo che la multiriflessologia facciale si coniuga molto bene, perché si tratta di una terapia che c'è una tecnica terapeutica che permette di prendersi cura di sé senza dover utilizzare degli elementi estranei al nostro corpo, utilizzando solo il nostro corpo e solo risorse che abbiamo. E quindi si coniuga con il fatto di salvare il pianeta da tutto ciò che potrebbe inquinarlo, si coniuga con il fatto che utilizziamo delle energie che abbiamo già e poi anche sentendo Jacopo quello che diceva il nostro professore, il fondatore di questa tecnica, il suo motto è rendere i pazienti, i malati, il medico di sé stesso. Come diceva Jacopo, dobbiamo liberarci dal guru e soprattutto dobbiamo essere noi artefice della nostra salute, perché finché deleghiamo a qualcuno la nostra salute noi non arriveremo alla guarigione. E poi mi sono molto commossa quando ho sentito parlare della resilienza, perché è grazie alla resilienza forse che abbiamo questa tecnica. La tecnica viene dal Vietnam. Voi conoscete il Vietnam, tutti quanti, no? Posso far vedere delle diapositive. Ecco, il Vietnam lo conoscono tutti e lo conoscono tutti per che cosa? Per dei paesaggi bellissimi che attualmente si vedono. Faccia pure andare avanti, scorrere velocemente. ma il Vietnam è stato conosciuto lungamente per la guerra che ha vissuto. E questa guerra qua la conoscono tutti perché è stata lunga, perché ha seminato tanti morti, perché è stato utilizzato un'arma chimica durante la guerra e perché quindi alla fine della guerra ha lasciato un paese distrutto. Un paese distrutto. Grazie proprio a questa guerra noi abbiamo avuto questa tecnica. Una tecnica che è nata nel 1980 grazie al fatto che dopo la guerra, dopo questo disastro e dopo l'utilizzo delle armi chimiche che hanno seminato altre morti e altri ammalati dopo la guerra non c'erano abbastanza risorse medicinali e quindi le cure delle persone, la cura delle persone ammalate veniva affidata gran parte alle tecniche tradizionali. Tecniche tradizionali che si utilizzavano in Vietnam che erano l'agopuntura, i massaggi vari, le erbe varie che però non riuscivano a risolvere fino in fondo perché comunque le persone dipendevano da un esperto. È arrivato questo signore, Boi Quacciao, che era un agopuntore che ha avuto una grande intuizione associando delle parole vietnamite, una parola che si dice Saum Lung e Saum Moi, due parole, no? La prima che esprime che è il nome della colonna vertebrale e la seconda che è il setto nasale. Semplicemente pensando a queste due parole e semplicemente avendo un grande desiderio di scoprire qualcosa che potesse usare per rendere famoso il Vietnam nel mondo staccandolo dalla parola guerra e renderlo famoso perché è utile all'umanità, è riuscito a scoprire un collegamento tra il setto nasale e la colonna vertebrale. Ossia, il setto nasale e la colonna vertebrale in vietnamita hanno nel nome uno stesso suono e questo suono ha suggerito al nostro professore che c'è un collegamento grazie anche al fatto che c'erano due frasi nei libri antichi della filosofia orientale che dicevano le cose che hanno lo stesso suono fanno risonanza e le cose che hanno la stessa forma fanno gruppo. I due nomi avevano lo stesso suono nel nome Saum Lung, Saum Moi quindi potevano fare risonanza. La colonna vertebrale e il setto nasale hanno la stessa forma quindi potevano fare gruppo. Questo cosa voleva dire, secondo il nostro professore voleva dire forse che gli antenalti nel battezzare i nomi hanno suggerito che queste due cose facendo parte dello stesso gruppo quindi si possono aiutare facendo risonanza nel nome vuol dire che una cosa stimolata può mettere in reazione l'altra cosa. Per cui ha provato a stimolare un ragazzo che aveva tantissimo mal di schiena cioè ha cercato sul suo naso e aveva trovato un punto doloroso con l'ago è andato dentro quel punto lì e ha avuto subito una risposta il ragazzo che soffriva tantissimo di mal di schiena ha detto subito ho sentito una scossa elettrica che è arrivata lì e mi è passato il dolore. Ok? Quindi da quel momento lì che è data 1980, 26 marzo vedete il punto numero uno sul setto nasale? quello lì è stato il primo punto di questi numerosissimi punti faccia pure vedere che sono stati scoperti nel giro di tre anni nel giro di tre anni questo signore ha messo insieme tutte le sue conoscenze di medicina orientale di medicina occidentale a di fronte delle persone che erano ammalate perché lavorava in un ospedale che recuperava i tossicodipendenti ospedali dove non c'erano medicinali ma c'erano solo delle cure alternative tradizionali per noi nel giro di tre anni sperimentando quindi su delle persone che soffrivano veramente e vedendo i risultati effettivi ogni volta che stimolava dei punti ha messo insieme tutte le sue scoperte e ha fatto venire fuori questa tecnica nuova che si chiama riflessologia facciale ma molti riflessologia facciale perché i punti sono tantissimi sono circa all'inizio erano circa mille li ha chiamati con i numeri perché aveva già una logica di trasmetterlo a tutti scegliere un linguaggio universale comprensibile da tutti allora questi punti sono come delle piante medicinali ogni pianta ha diverse proprietà quindi ogni punto è collegato a qualche parte del nostro corpo stimola una reazione nel nostro corpo combinando i diversi punti possiamo avere delle combinazioni di stimolazione e di reazione che ogni punto singolarmente non fa e quindi riusciamo ad intervenire sui disagi del nostro corpo appena compaiono allora il professore quando ha scoperto che questi punti ce li abbiamo tutti in faccia e la loro stimolazione è molto semplice perché loro funzionano con una logica bellissima cioè quando trasmettono un disagio diventano più dolorosi diventano più sensibili o cambiano di colore la zona della pelle dove sono cambia di colore o cambia di tonicità è come se ci chiamassero e quando ci chiamano sono gli stessi punti su cui dobbiamo agire per risolvere il problema e agire per risolvere il problema vuol dire stimolare il punto con un picchiettio una pressione un massaggio capite? quindi la cosa è stata ha realizzato che la cosa è bellissima è come se qualcuno ci avesse formidito di una di una scatola piena di principi attivi per fare tutte le medicine che vogliamo no? e insieme a tutti i principi abbiamo anche gli strumenti per poter elaborare queste medicinali che potremmo avere bisogno come si fa? bisogna imparare i punti? si è domandato è un po' difficile allora ha pensato se ci abbiamo tutti bisogna trasmettere la conoscenza a tutti di modo da poter trasformare gli ammalati in medici di se stessi d'accordo? perché è tanto facile stimolare faccio avanti andare avanti un attimino che poi concludo praticamente ha raggruppato i punti e ha fatto venire fuori dei disegni di modo che ognuno di noi guardando i disegni che ci sono sulla faccia quindi proiezioni del nostro corpo ci sono anche quelle degli organi interni ci sono anche altri riflessi sulla faccia però semplicemente ricordando una foto un'immagine così ognuno può stimolarsi i punti quando ha bisogno per esempio dovessi avere dolori cervicali vedete secondo la figura rossa qui ci sarebbe il collo qui ci sarebbero le braccia quindi dovessimo avere problemi di pesantezza le braccia oppure anche dolore al gomito il polso e così via possiamo stimolare picchettando premendo oppure strofinando ok allora ho due minuti devo concludere in due minuti già è passato il tempo allora poi con le esperienze dei riflessologi il nostro professore e i suoi primi allievi abbiamo delle ricette cioè la combinazione di diversi punti che risolvono i diversi problemi per esempio adesso io ho aperto e qua c'è la voce di giunture dei piedi gonfie ok oppure gola irritata e ci sono dei punti che collegati insieme non vanno a stimolare solo il riflesso della parte ammalata ma vanno a stimolare dei punti che vanno a regolarizzare i vari disagi che hanno causato il sintomo quindi per esempio il mal di gola potrebbe essere un raffreddamento generale di tutto il corpo un mal di schiena che potrebbe essere una congestione nei reni se fosse la parte lombare e così via e quindi abbiamo la possibilità di intervenire guardando solo le immagini oppure seguendo delle ricette che hanno già fatto gli altri hanno già sperimentato e hanno già avuto successo ecco questa è la molti riflessologia facciale vietnamita un modo per renderci indipendenti da qualsiasi persona perché una volta imparata si può imparare e si può stimolare perché non si usa più l'ago perché il professore ha sperimentato a stimolare i punti con le dita con degli strumenti un po' più grossi del lago io ne ho sempre una portata di mano che è circa un millimetro di diametro arrotondato si può andare a cercare i punti quando si sente un punto che fa un po' più male rispetto al riflesso che abbiamo si va a passare sopra o a premere sopra e quella è la simulazione quindi provare per credere adesso non abbiamo tempo comunque noi fuori ci metteremo diversi riflessologi a trattare se volete provare grazie le volevo dire che io ho avuto come maestri due vietnamiti un maestro Nguye Vanghi e Nguye Taitu non erano parenti no e con Taitu ci ha spiegato che dopo la guerra tutti i bambini nascevano con gravi malformazioni sì esatto e hanno sviluppato questa medicina proprio perché c'era stata la guerra una medicina molto approfondita fra cui quella della fisologia facciale che io ho ricevuto e come diceva lui un dolore gravissimo di una nazione distrutta in effetti poi ha permesso di recuperare e portare una novità una grande novità terapeutica a tutto il mondo perché adesso si sta spargendo su tutto il mondo infatti sono circa 50 paesi dove siamo presenti benissimo quindi io la ringrazio per l'intervento è stato molto convincente e volevo dire due cose e se è possibile andate sul link sulla pagina di ecco futuro festival e rimandate il link della trasmissione che ancora per una mezz'oretta andrà avanti e poi mi sono dimenticato questi libri qui di questi libri di Gioacchino sono in vendita quindi se qualcuno li volesse comprare va bene io credo che Gioacchino anche ci faccia un autografo una bella dedica si fa come come nei film americani via la fantasia la fila facciamo gli splendidi perché no perché e adesso esatto questa è una cosa importante sì non mi sono scordato di dire che la copertina realizzata da da questo mio carissimo amico che è uno street writer molto importante non solo in Italia ma anche in tutta Europa si chiama Exitenter che fa questi cuoricini e queste cose molto evocative e che è qui con noi e stasera alle nove e mezza ci sarà la sua esibizione sono molto contento di averlo primo come amico ma anche che abbia ha consentito a darci le sue opere che sono presenti anche all'interno del libro ci sono varie ci sono tutte tutte opere realizzate sulla strada sono tutti muri abbandonati posti periferici ed è questo un po' il simbolo anche della resilienza perché poi lui stesso mi ha detto che ha cominciato a farlo perché voleva a sua volta guarire da un suo malessere e quindi ha cominciato a disegnare di notte laddove nessuno voleva andare quindi in luoghi abbandonati le sue opere si trovano sui muri di moltissime città da Firenze a Pisa l'ho vista in giro e adesso perché inizialmente ovviamente era celato sotto montite spoglie perché chiaramente però poi è diventato talmente conosciuto che è stato contattato insomma anche per creare ha creato anche altre copertine di libri per la Mondadori cioè ora sta diventando un nome è un artista emergente molto amato dai giovani io ho una figlia che ha 27 anni e anche con i suoi amici stravedono tutti per questa sua modalità semplice ma molto diretta e molto interessante di recupero di situazioni appunto che sono abbandonate e quindi ci sta benissimo nella copertina ma ci sta benissimo la sua presenza qui a Eco Futuro Festival perché lo trovo veramente in sintonia sì scusate prima mi sono scordato di dirlo però è bene che insomma sappiate le nove e mezza possiamo assistere alla sua performance si può cenare qui al festival per restare e vedere esistente esatto grazie Gioacchino non si può ricordare tutto anche perché i tempi sono sempre stretti adesso chiamo a parlare Sabrina e Roberto dell'Università Popolare prego loro sono esperti di sciazzo e oltre sciazzo sciazzo bene benvenuti grazie e raccontateci delle vostre esperienze delle vostre attività l'ho fatta io buonasera scusate l'emozione non ho mai fatto queste cose quindi per me è la prima volta poi non c'è nessuno che ti sta guardando benissimo no pochissimo ah grazie così mi calmo proprio allora Università Popolare di 90 nasce appunto da da persone che vogliono incontrarsi che vogliono crescere che vogliono comprendere un po' la vita e i suoi sentieri insomma quindi questo gruppo si mette insieme prima fanno una piccola associazione e negli anni appunto si è trasformata in Università Popolare all'interno ci sono diverse sedi tra le quali appunto una scuola di shatsu un centro dove si fanno varie conferenze dalla fisica quantistica alla cucina quindi comprendiamo un po' tutto quanto ma sempre restando nell'ambito della persona cioè della crescita personale fisica psichica mentale e spirituale e quindi prendiamo non lo so anche la meditazione giusto per stare bene per rilassarci per buttare fuori quello che la giornata ci ha dato di pesante al non lo so attività come lo stretching che viene che nasce appunto dallo shatsu di Masunaga per riequilibrare un po' tutta la nostra parte energetica abbiamo appunto anche la scuola di shatsu riconosciuta dalla federazione italiana shatsu la fisio che fa dei corsi amatoriali fa dei corsi professionali nel tempo è evoluta insomma e ha dato alla luce vari professionisti shatuki insegnanti tra le quali anche la presente ma soprattutto ha dato vita a delle persone delle persone che cercano di compiersi nel proprio insieme di comprendersi e di vivere con bene con se stessi prima di tutto e nell'ambito in cui sono quindi certo non si può dimenticare tutto quello che abbiamo di fronte perché comunque società vita di tutti i giorni la affrontiamo sempre quindi cerchiamo di dare un diciamo uno strumento che abbiano in mano uno strumento per potersi per poter far sì che vivano bene ok e che siano essi stessi gli artefici del proprio cammino passerei anche la parola al direttore didattico ok Roberto bene buonasera io mi sono stato catapultato qua quindi non ho preparato un discorso però mi sento in casa in famiglia perché sentendo le introduzioni di Gioacchino ho scritto nominare Vattrini io un paio di mesi fa ero in Giappone e dal figlio di Masunaga che tirò fuori delle vecchie fotografie in cui c'era il giovane Vattrini e me andai quindi anche ai miei colleghi della federazione e c'era anche Maurizio Parini che è tuo amico noi non ci conosciamo personalmente ma ci conosciamo per strada ecco io prima di venire qua io sono arrivato in ritardo perché mia moglie che è ostetrica e stava facendo preparazione alla nascita con un gruppo di donne incinte appunto mia moglie è un personaggio particolare un'ostetrica molto particolare che da 30 anni fa preparazione alla nascita naturale ed è molto conosciuta dalle donne in particolare appunto e stavo uscendo dal mio studio e mi ha chiamato mi ha detto c'è una signora che sta male una signora gravida che sta male e quindi è salita in studio e quindi ho cercato di aiutarla aveva dei giramenti di testa delle nausee insomma delle contratture alla spalla che le provocavano comunque anche un formicolio una chiusura dell'occhio sinistro insomma parecchie cose no e questa signora è una farmacista no che però aveva scelto di fare a suo dire la preparazione appunto della sua gravidanza con mia moglie che è tutt'altro insomma che è il contrario della farmacista insomma e quindi questa cosa mi ha colpito e quindi insomma mezz'oretta come dire la signora è uscita che stava molto meglio anzi stava bene e poi è tornata a fare ginnastica alla cosa allora cosa le ho fatto l'ho messa a suo agio io porto avanti anche da psicologo la mia vita da psicologo e appunto dal direttore di dati un insegnante sciazzo eccetera e sono molto presente nella federazione io ho sposato da tempo una psicologia che prevede nel suo sguardo anche al nostro aspetto spirituale quindi non solo fisico non solo psicologico non solo energetico non solo emotivo ma anche spirituale quindi un pensiero veramente integrale e completo holistico che non lasci fuori quindi la persona viene accolta nel suo insieme in questo suo enorme insieme quello nel suo essere finita nel suo aspetto terra nel suo essere infinita nei suoi piani di coscienza e cielo così dicono gli orientali io credo che personalmente e posso testimoniare che il solo aver creato in me un cammino che mi ha permesso di abbracciare questa cosa e non dico di crederci ma di vivere totalmente nella mia vita quindi non è più una credenza ma è parte di quello che faccio ed è il mio metodo di stare con gli altri quando le persone mi chiamano e mi portano delle sofferenze in un qualche modo il solo fatto di pormi in questo modo e di accoglierli in questo modo crei un piccolo ospedale questa cosa è una medicina in sé perché le persone e questa è la cosa in cui credo con tutta la mia passione a cui sto dedicando la mia vita hanno bisogno di ritornare a quel contatto a questo contatto così completo con se stessi e quindi sento che ognuno cura poi terapie di tutti i tipi in tanti modi però credo che nella semplicità di questa affermazione c'è poi un lungo cammino da fare però c'è tutto quello che dobbiamo scoprire cioè riappropriarsi della nostra identità della nostra umanità significa riappropriarsi di un abbraccio che includa l'universo intero ecco quindi non occuparsi solo del nostro piano fisico o anche del nostro piano fisico ma creare un'unità in sé quindi un'unità di dialoghi io dico nel condominio tutti devono dire la propria devono poter far sentire la loro voce in questo coro di voci c'è anche un'anima che deve parlare c'è anche uno spirito che deve fare la sua parte all'interno e quindi lo spirito all'interno di ogni persona si mostra poi anche attraverso gli archetipi che ha nominato Giacchino soprattutto che il mio metodo di lavoro è quello di lavorare con gli orisha quindi con le forze della natura quindi c'è una tradizione sciamanica che da vent'anni porto avanti con i miei maestri e che si cala in un contesto psicologico quindi c'è Jung e ci sono anche gli indios della foresta con le loro rappresentazioni e quindi queste forze che danzano in noi e che ci riportano a un collegamento come se fossero un arcobalieno attraverso le qualità e le virtù che mostrano ci collegano a ciò che è sempre stato nostro ci sono le nostre radici nel cielo quindi tutto quello che è da fare da cavalcare queste virtù è a mio avviso di creare luce nelle persone e di guardare meno alla patologia oggi un signore mi raccontava con tanta tristezza che ha queste parti oscure e quindi ognuno di noi ha qualcosa che non sa di sé allora bisogna stare attenti a che non mi diamo queste parti può essere semplicemente qualcosa che non conosciamo oppure può essere la bestia che ci mangia di notte quindi bisogna fare come diceva Confucio torna in città e dai un nome alla cosa quindi saprai di cosa ti deve occupare quindi io riporto queste persone alla possibilità di creare luce di creare forza di soffiare sul fuoco che ogni persona ha dentro di sé e di alimentarlo e quando si è creata tanta luce si può illuminare e anche con una piccola luce si può illuminare un posto molto buio quindi a mio avviso anziché occuparsi della patologia con forza e quindi di combatterla di abbracciare di più le nostre parti che non conosciamo ma con la luce che arriviamo costantemente a creare quindi a guardare di più a quello che sappiamo fare che a quello che non sappiamo fare e a far crescere quello e crederci insomma che il nostro posto nel mondo lo troviamo quando ci siamo contivati abbastanza io vi lascio in pazza e vi lascio proseguire la vostra cosa grazie grazie Roberto grazie grazie anche a Sabrina voi siete allora a 90 padovana a 90 padovana quindi per chi è interessato può cercare sicuramente avete un sito Sabrina avete un sito? ok va bene si abbiamo il sito dell'associazione ancora che è Nido delle Aquile Nido delle Aquile Nido delle Aquile Nido delle Aquile 90 padovana bellissimo anche come noi benissimo io vi ringrazio avete dato anche voi una buona una bella testimonianza insomma siamo a fine io vorrei presentare una persona che conosco molto meglio che si chiama Alfredo Alviani Alfredo mi ha insegnato a innamorarmi innanzitutto del Tai Chi che io pratico ad Arezzo e non con lui per il semplice fatto che siamo un po' lontani e quindi però devo dire che con il Tai Chi al mattino ho avuto un contributo molto importante a ritrovare molto equilibrio e a stare bene quindi come si dice piano piano sto acquisendo quelli che sono i suoi contributi lo ringrazio di essere venuto qui stasera l'avete visto vestito da Shatsuka con il suo costume di Tai Chi di Tai Chi è nello spot di Eco Futuro Festival e stasera mentre Enter Exit si eseguisce anche Alfredo ci farà un po' di movimenti di Tai Chi hai portato avremo anche la Ghironda con il Gioacchino e l'Asia che suona la Ghironda benissimo sono tutta una serie di cose veramente particolari quindi se scatta la catarsi stasera è rivoluzionaria va bene io ti ringrazio il Tai Chi è una delle arti che io esploro da più tempo insieme allo yoga e ho fatto dei percorsi paralleli a quelli di Gioacchino e Jacopo perché si vede che era il periodo giusto dopo la guerra la rinascita dell'Italia anche a livello economico quindi anche la possibilità di accedere a tanti libri che era una cosa importante e aveva una libreria sacra a Firenze che era in centro che aveva un reparto superiore chiamava reparto folcloristico c'era tutti i libri della Cina dell'India del Giappone del Vietnam ed è stato il primo posto dove ho trovato gli aghi di agopuntura che li vendevano come oggetti così da mettere come soprammobile in effetti i vescii li ho utilizzati fin dall'inizio si parla del 76-77 a questo punto qui Tai Chi Qigong meditazione yoga sono tutte discipline che hanno la possibilità di educare la persona a tutto quello di cui avete sentito parlare oggi la persona è una composizione biochimica tutto quanto si basa sulla biochimica e sull'elettromagnetismo e qualunque cosa noi facciamo proviamo sentiamo pensiamo ricordiamo c'è sempre un avvenimento biochimico il nostro rapporto con il mondo è biochimico quando Jacopo nel primo intervento nella cosa precedente parlava di batteri noi praticamente siamo fatti di batteri attornati di batteri e parlava e metteva in risalto il microbioma che è fondamentale adesso viene descritto come se fosse un organo del corpo umano il microbioma questo insieme di un chilo e due di batteri senza questi noi non ci esisterebbe tenendo anche presente una cosa che nel nostro DNA che è molto semplice perché ha 23.000 geni c'è un insettino che viene usato nei laboratori si chiama drosofila ha 4 milioni di geni quindi si vede che era meno esperto quando il creatore ha fatto la drosofila poi piano si è sviluppato ma il 70% poco più poco meno del nostro DNA è quello di retrovirus quindi noi siamo fatti di natura continuamente acquisiamo e diamo DNA in una delle ultime studie che ho avuto la fortuna di incontrare viene detto che le persone ma sicuramente non solo le persone si scambiano DNA stando vicini DNA quindi vuol dire che in un modo o nell'altro noi stiamo scambiando e tutto quanto vi ripeto è mediato dalla chimica quando voi toccate una parte del corpo come la signora Millet parlava detto il caro il volto che è un microsistema che adesso si sta proprio spargendo nel mondo come l'orecchio il piede l'addome noi andiamo a creare delle risposte che in base sono biochimiche e questo è fondamentale allora quando voi mangiate inserite della biochimica dentro il vostro corpo inserite delle frasi che il vostro corpo deve recepire e questo è fondamentale che voi riteniate che quel momento in cui voi vi alimentate è uno dei momenti più sacri della giornata quando voi mangiate bene respirate bene vi muovete con coscienza diciamo che non siamo in una botte di ferro ma poco ci manca e incominciamo a rimettere in ordine tante cose la cosa a cui io tengo tantissimo è che il lavoro che voi potete fare su voi stessi per migliorare quindi andare verso la salute che è un obiettivo che va sempre più là non c'è la salute a cui si arriva ma è un continuo miglioramento non lo fate per voi lo fate per la collettività perché quando ciascuno di noi sta meglio respira meglio inquina meno mangia meglio magari mette le piante sui balconi magari mette anche gli striscioni particolari che sapete che ultimamente sono stati molto ben messi in evidenza noi stiamo migliorando la comunità da soli non si guarisce si guarisce solamente se tutti insieme ci mettiamo come nei vari gruppi di cui parlavo di quello prima di Don Luigi ce ne sono altri veramente efficienti ci sono tante associazioni tante anche aziende che in Italia stanno collaborando a far questo e io sono contento di far parte di questa storia la mia intenzione fin dall'inizio io iniziai a studiare medicina lontano settembre 77 ho fatto tre anni poi mi sentivano spacciatori di farmaci mi venivano già a cercare di propormi di fare rappresentante di farmaci promettevano delle cifre per allora molto elevate come ricompensa e questa cosa a me non piaceva perché mancava quello che per me è importante l'umanità il condividere poi ancora a quei tempi non si parlava delle cellule specchio sono questi neuroni specchio cioè che adesso spiegano come mai voi potete provare empatia provare il dolore di un'altra persona va bene ma sicuramente io li avevo già in qualche modo attivati nel 77 era già tre o quattro anni e mezzo che praticavo yoga e meditazione e quindi ero stato anche abbastanza fortunato il mio scopo qual era? quello di stare bene è di far star bene la mia ricerca è stata sempre solamente questa e lo stesso lavoro che è stato condiviso da tanti adesso sta dando i suoi risultati guardate i risultati che hanno fatto con Eco Futuro Roggiolani Dotto e Dotti scusi ti ho semplificato però è vero potrebbe stare anche bene Michele Dotto perché veramente è cresciuto tantissimo da quando lo conosco che era già ammirevole adesso ha fatto un'elevazione quando guardo i tuoi video sono molto molto emozionato e poi dicevo che hanno costruito questa costante ricerca di rimettere a posto l'ambiente io nella nella trasmissione poveridiana mi sono preso due interventi devo dire che si sono altamente elevati allora mettere insieme la salute individuale la salute sull'ambiente a parte creare posti di lavoro che non sarebbe male e ne se ne creerebbe tantissimi posti di lavoro che non pesano sul sistema ambientale anzi tendono ad andare a alleggerire se io riesco a convincere una persona delle sue forze per esempio nel tai chi quando Jacopo parlava di questo maestro anziano Ueshiba sicuramente io ho avuto la fortuna di incrociarlo una volta era un maestro alto così uno e cinquantadue e lui si divertiva a farsi attaccare anche da maestri di altre discipline e lui rimaneva immobile questa è una tecnica che io insegno la prima sera che mi viene uno studente nuovo vi faccio vedere com'è semplice perché è una dote naturale quando voi capite nel taoismo si dice tornare alla naturalezza quando voi capirete che dentro di voi c'è già tutto quanto che basta semplicemente armonizzarlo ecco che la nostra via incomincia a essere migliore bisogna studiare applicarsi incontrare conoscere perché il vostro cervello così plastico impara e mette in moto tutto e vorrei fare una parentesi perché è una cosa di cui non si parla mai il cervello non ce n'è solo uno ne abbiamo più di uno lo stesso encefalo è una suddivisione molto particolare ha bisogno di memoria la memoria dell'essere umano è andata dalla pietra incisa a oggi alle memorie dei computer quindi noi adesso abbiamo una capacità che solamente 40 anni fa non era possibile disporre è vero che sembra che il cervello ringrullisca a usare il tablet a usare il computer ma in effetti noi abbiamo la possibilità di accedere a una mole di dati che prima assolutamente non era possibile io nell'iPad ho tutti i miei libri di base e quindi devo ringraziare Steve Jobs che è stato uno dei personaggi di cui ha parlato lui che ha fatto che ha avuto anche lui una vita sofferente anche una parte io l'ho conosciuta la sua vita nel senso la seguivo in tempo reale a suo tempo allora la salute ambientale la salute della città la salute politica dipende da quello che facciamo noi vedete quando voi meditate quando voi entrate nello stato meditativo anche durante il movimento succede un miracolo dentro di voi questo è un miracolo non ce l'avete più con nessuno scomperano asti frustrazioni è una sorta di passaggio di coscienza probabilmente dal cervello più antico che noi chiamiamo cavernicolo rettiliano rettiliano come lo chiamano tecnicamente va bene a un qualcosa di superiore vi ricordo che io tengo sempre presente che il vostro corpo è una industria farmaceutica chimica vi spiego parlo anche di endofarmaci nel senso quando si fa un movimento correttamente se siamo correttamente non è solamente con le leve articolari e muscolari è con la presenza della nostra intenzione succede talvolta che noi produciamo sostanze le più note sono le endorfine i cannabinoidi e l'ossitocina durante la pratica si può produrre queste sostanze ci sono degli studi che hanno validati che hanno dimostrato che succede questo quando io metto in moto tutto questo ecco che cambia tutto intorno a me non vi voglio tediare di più perché io quando comincio a parlare di queste cose lo sanno i miei studenti si va avanti però vorrei dire qualcosa sul concetto di maestro il maestro è dentro di voi maestro maestra come volete chiamarlo upa guru maestro interiore il maestro interiore probabilmente si riflette su quelli che sono stati dei chiamati archetipi da da Gioacchino sono loro che si evidenzano la nostra coscienza sotto questa forma ma noi abbiamo tutto quello che ci serve dentro io imparando a muovervi in maniera da abbandonarmi per esempio prendendo la posizione corretta io incomincio a avere quelle sensazioni che vi ho detto un attimo fa di non avercelo più con il mondo si incomincia a diventare collaborativi senza doversi convincersi devi essere bravo devi essere buono devi essere esemplare no vi viene spontaneo normale questo è segno che voi state lavorando correttamente su di voi la posizione in piedi è una posizione per esempio conflittuale la maggior parte di noi se qualcuno di voi ha avuto il mal di schiena lo sa bene quando sta in piedi la gravità lo porta in una condizione di lotta costante quando voi riuscite a trovare quel punto dove la gravità non vi fa più cadere e la vostra storia genetica si esprime attraverso quei muscoli di cui diceva Jacopo i muscoli profondi sono i muscoli antigravitali o i muscoli posturali come si chiamavano negli anni 70 quando voi lasciate scorrere questo il vostro corpo si estende si aggiusta ed ecco che non avete più nessuna nessun conflitto nessuna guerra dentro di voi ora lo so che vi può sembrare strano il salto che faccio è sicuramente incompleto perché c'è bisogno di più magari voi siete anche più esperti di me su questo argomento ma basta un conflitto esacerbato esasperato per anni che accumulandosi con errori biochimici nel nostro corpo con accumuli di sostanze che non ci dovrebbero essere ecco che io apro il terreno a un disturbo quando noi lavoriamo io ho la fortuna di lavorare con persone che hanno affrontato tanti tipi di disturbi e li abbiamo affrontati anche insieme io non guarisco nessuno io cerco di stimolare le persone a capire i loro meccanismi gli do i suggerimenti alimentazione idratazione certi cibi secondo me andrebbero eliminati anch'io ho iniziato con la macrobiotica a 18 anni quindi pensate era a quanto pare senza saperlo era un marchio di quel periodo lui è andato a studiare negli Stati Uniti io sono rimasto in Italia il libro che mi aveva traviato e contaminato si chiamava e si chiama ancora perché c'è ancora in commercio il medico di se stessi non so se l'avete mai sentito questo titolo rosso con in mezzo il pacqua in questo modo allora i maestri i maestri li avete dentro di voi noi dobbiamo metterci in questa posizione e aspettare che venga fuori sensei significa ha detto Gioacchino colui che ha iniziato prima qualcuno che ha iniziato prima e che noi chiamiamo fratelli maggiori all'interno dei nostri gruppi quelli che studiano da più tempo si chiamano fratelli e sorelle maggiori quelli che studiano da meno tempo si chiamano fratelli e sorelle minori ma per intendere il tempo di pratica mi spiego perché è probabile che uno che ha già fatto più un esercizio fisico mentale emotivo abbia qualcosa magari da suggerire a chi sta iniziando in questo momento quando noi siamo con queste persone noi vediamo tanti maestri il paziente che viene da me sul lettino e io tratto quotidianamente ho le sei le otto persone che mi vengono a trovare ecco in quel momento io mi pongo di fronte a loro perché mi stanno insegnando qualche cosa vi assicuro non c'è retorica di nessun genere certe volte sono stanco sfinito faccio fatica va bene però la maggior parte delle volte ci sono delle persone tutte che proprio mi danno qualche cosa quando si finisce il rapporto di questo scambio ecco che io ho imparato tantissimo tanto che tutte le volte mi arriva una persona io so che inizio un percorso nuovo perché questa persona essendo riflesso del macrocosmo è un universo unico e quindi mi predispongo ad imparare questo per me per me Alfredo è un modo di curarmi questa è una delle cose che a me porta salute e non sono perfettamente in salute va bene perché anch'io prima di entrare in salute ho detto la salute è un obiettivo che sembra che mi avvicino quando facevo animazione teatrale cadevo così davvero anche quando facevo animazione teatrale facevo il clown con le scarpe lunghe va bene ho fatto anche questo poi ho incontrato l'insay camp e sono stato con l'insay camp quindi ho passato un periodo e allora con i bambini cercavo di fargli risolvere il mio problema perché mi cascava il cappello e avvicinandomi il cappello mi scappava questa è più o meno la mia salute allora chiedevo ai bambini normalmente erano bambini degli elementari va bene che si sganasciavano perché io tutte le volte mi avvicinavo il cappello andava via va bene in questo modo e alla fine c'era sempre qualcuno che trovava la soluzione c'è chi mi diceva di camminare all'indietro e c'è chi mi diceva di camminare di lato ma la soluzione l'hanno sempre trovata e questo se andiamo a vedere quando voi vi trovate in un problema di salute fisico emotivo dovete applicare una frase di uno dei miei maestri di Zero Balancing il fondatore Fritz Smith che è if you resist persiste se io cerco sempre di andare la mia scarpa la lontana sempre allora devo trovare un'altra via va bene spero di non avervi annoiato di avervi lasciato qualcosa vi ringrazio vi do appuntamento a stasera ringrazio Fabio Roggiolani ringrazio Michele Dotti Jacopo Fo ringrazio tutti e viva Eco Futuro grande grazie grazie Grazie.